ok il primo degli austriaci ok che pronto ok sta per partire stefan team amplin che triccone che faccia ma quanti giri ha fatto questo qua allora vai Zevan guarda lo piatto preciso una bolla sulla tavola non si muoveva max galfre un applauso forza modena ha slaminato un po' sul tic era perso un po' di velocità ed era un milottante era grandissimo max galfre max che vuole così simon allora modena proviamo a fare un applauso per simon eccolo no c'è invece il cino enorme altissimo simon simon gruber ok c'è il dietro in cartina assi